Cambio di posizioni in seno al Consiglio Comunale di Palazzo San Francesco, il consigliere Daniele Delmonaco lascia, come sappiamo, pronti per cambiare, per aderire al gruppo dei non iscritti. Possiamo dire, Daniele, che l'anticamera per un passaggio all'opposizione. Il discorso è questo. Io ho fatto questa scelta di uscire da pronti per cambiare perché mi sono accorto nell'arco sostanzialmente di questo periodo di amministrazione che non c'è stata una condivisione di visioni politiche sostanzialmente che poi inevitabilmente si vanno a riflettere su quella che è l'attività amministrativa del Comune di Sulmona. L'attività amministrativa è da precisare che quando parlo di attività amministrativa intendo fare le cose per i cittadini, per il bene di Sulmona e fare quelle cose piccole o grandi che siano che possono in qualche modo andare a migliorare la quotidianità dei cittadini di Sulmona. Al momento in cui ho riscontrato questa difformità sostanzialmente in termini di confronto, in termini di condivisione di determinate linee politiche, con il mio gruppo pronti per cambiare, ho ritenuto coerente sostanzialmente differenziarmi da ciò e dunque passare al gruppo dei non iscritti. A livello di maggioranza io ho avuto sicuramente forse più confronto e più collaborazione anche con gli altri partiti di maggioranza, il PD e SEL con cui mi sono confrontato, abbiamo cercato di portare avanti anche alcune iniziative insieme. Fatto sta che, ripeto, la politica viene sempre e comunque in secondo livello rispetto all'amministrazione e alla buona amministrazione. La maggioranza consigliare è in difficoltà. Lei ritiene di essere l'ago della bilancia per una nuova crisi o comunque per un'instabilità di fondo? Io spero di essere un ago della bilancia non in termini politici ma in termini amministrativi appunto. Nella fattispecie sto portando avanti una serie di attività, una serie di progetti, in particolar modo sulla protezione civile dove sto lavorando già da diversi mesi e con cui sto ottenendo anche degli importanti risultati per Sulmona. E' bene che si sappia che siamo riusciti, dopo un lungo e travagliato percorso politico-amministrativo, a portare a Sulmona ben 5 container di attrezzatura per la protezione civile, che quindi sono a servizio della cittadinanza e tra l'altro anche del gruppo comunale di protezione civile per addestramenti e formazione. Sto lavorando sempre in campo di protezione civile anche per ampliare ulteriormente questa dotazione tecnica, sto lavorando per aggiornare il piano di protezione civile che è un piano che ormai risale al 2009 e chiaramente necessita di essere aggiornato. E non solo, sto lavorando anche sull'ufficio Europa, un ufficio Europa dove ho cominciato un lavoro anche qui da appena insidiato sostanzialmente, sono riuscito anche qui a fatica a ottenere solo nell'ultima variazione di bilancio circa 5.000 euro per poter fare un ufficio Europa e quindi mi sono dovuto adoperare ancora di più per far sì che con queste somme si potesse creare un servizio ai cittadini che fosse il più efficiente possibile. E devo dire che ci sono delle ottime possibilità per riuscire a ottenere questo risultato. Il sindaco Ranalli, Daniele, probabilmente non aspettava questa tua decisione, quindi è stato colto alle spalle, quindi è stata una sorpresa per lui? Voglio dire, io ho parlato spessissimo con il sindaco in tutte le sedi possibili e ho sempre sottolineato queste problematiche che venivano regolarmente al pettine. Di conseguenza gli ho sempre espresso la mia difficoltà nel riuscire a portare avanti un'azione politica e amministrativa in questa maniera. Più volte abbiamo avuto modo di parlare, di confrontarci e ho sempre spiegato quali fossero i progetti che avevo in programma, quali fossero gli strumenti da poter utilizzare per ottenere risultati per Sulmona. Ora, parlando, ho parlato in italiano, spero di essere stato compreso e o quantomeno ascoltato.